Bella a tutti ragazzi sono Ika e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su un video particolare ma prima di iniziare Sigla Allora in che video siamo ragazzi? Siamo in un video particolare Perché voglio mostrarvi il mondo ovvero i lotti dove giochiamo durante le live Perché voglio mostrarvi questo? Per mostrarvi alcune modifiche magari per chi non avesse seguito le live E ringraziarvi di tutto Di tutto veramente Poi ci arriveremo Allora, vedo tutto qui l'entrata vabbè se è il canale youtube che ha dei gameplay Questa è la piscina per gli iscritti con un bel trampolino E tutte le cose varie Poi abbiamo la bacheca delle dediche o donazioni Per chi mi donasse in live Lo segno qui E per chi mi fa delle dediche tipo I cari migliori, i cari un bomb e tutte le altre cose Poi altre tagghiottina che è il nostro emblema Poi qui c'è la bacheca degli iscritti che mi vengono a trovare durante le live Quasi sono tutti gli iscritti che mi sono venuti a trovare finora Ringrazio a tutti quanti Tutti Tutti Ovvero questi qui che mi sono venuti a trovare mi hanno aiutato nelle costruzioni Quindi Un grande ringraziamento gravuro e speciale Poi prima di entrare andiamo a vedere qui Qui c'è un cancelletto Che entriamo Entriamo nella piscina Nella piscina dove c'è ovvero il nostro emblema Tina E poi varie cose tipo qualche che ne so cascata Poi c'è un altro emblema Tina OP Poi qui c'è la torre Dove si va nel primo piano Uh, ho sbagliato Nel primo piano che è questo Dove si può vedere una parte del mondo E poi nel piano di sopra Nella parte più alta Poi abbiamo fatto la vaica illuminante L'ho creata io giusto per illuminare Un nome a cassa Builder by Superkill And the Guardian E mi hanno fatto questa spada Spada di ferro credo O di legno non lo so Però È bellissima ragazzi È bellissima Passiamo alla parte che mi piace di più Dove Entriamo in questa casa Ah non l'ho vista Terzo banner che possono servire by Guardian Ah Uh Oh Oh bellissimo Non l'avevo visto questo Grazie, grazie mille Poi abbiamo tunnel per la torre Una volta che scendiamo Può essere un tunnel Il tunnel va da qua per la torre Vi faccio vedere come questa parte Dove ci sono Chi vuole costruire E chiamare i carimbo Che fanno le loro stanze E fanno la loro costruzione che vogliono Possono pure vivere qui Fanno quello che vogliono Vivere ovviamente nel gioco Per giocare insieme Poi abbiamo una parte Dove Stiamo finendo di costruire Qui sta già costruita da Peter Il lavoro in corso Lavoro in corso ecco Quindi non so cosa mi stanno costruendo Cosa mi sta costruendo Poi scendiamo qui È la parte mia preferita Ta da Qui c'è la bacheca dei consigli Dove ognuno mi fa i consigli Va bene Non badate però Mi fanno i consigli Ehm E io Ovviamente di prendere in considerazione Qui Bacheca delle battute squallide Dove Ci sono tutte le battute squallide Che io ogni volta che le leggo Mi sto a piangere Tipo Cosa dice un cestino Io mi rifiuto Vabbè Non leggiamole Poi c'è la bacheca delle dedico Ovviamente di nuovo Dove Ci sono queste Allora Ciao Icate da quando ho visto Una tua live Mi sono iscritto Perché Youtuber come te Devono essere avanti Un bacio da SuperTube Grazie SuperTube Grazie davvero Perché Cioè mi rendete Mi rendete veramente Ehm Orgoglioso Grazie davvero Poi c'è Ciao Icate ti voglio bene All'ospedale mi sono operato Ma questo non mi imparisce Di vedere i video molto I tuoi video molto belli Ciao all'ospedale con il computer Perché voglio giocare con te Peter57 Cioè ragazzi Guardate quanto ci tenete a me Ehm Cioè mi state facendo commuovere Perché non so veramente Come posso Ringraziarvi Vi ringrazio ovviamente Facendo questo lavoro Portandomi video ogni giorno Facendo live E voglio cercarvi di ringraziarvi appunto Tutti quanti Veramente Grazie Grazie a tutti quanti A partire da Peter A finire a SuperTube A Guardian A SuperKill A tutti quanti A tutti Voi Che siete quasi 2000 Siamo arrivati a 1560 Mi pare Grazie Grazie Davvero a tutti Poi abbiamo Questa stanza Che non l'ho vista Avevo detto di Cioè avevo detto di fermarsi Ma hanno continuato E c'è Stanza segreta dei miei scritti L'avevo fatto io Perché volevo fare una cosa segreta a loro Ma loro hanno fatto una cosa fighissima Hanno fatto questa E poi circuito di Nelson Costruito da SuperKill E Guardian Aprendo Guardate Cioè no ragazzi È bellissima È bellissima È bellissima Costruita da SuperKill E Guardian È bellissima ragazzi Io non so Veramente Come ringraziarvi Non so Veramente Cosa posso fare per voi Grazie Grazie a tutti Mi avete fatto commuovere Anche facendo piccoli gesti Anche giocando insieme A me Fa divertire tantissimo E mi rende felice Di stare con voi A contatto Anche se magari Siamo in un mondo virtuale Siamo dietro uno schermo Però ragazzi Secondo per me È veramente Veramente bello Io Ringrazio davvero Di nuovo Tutti voi Spero che questo mini video Vi sia piaciuto Se volete giocare con me Vi ricordo che sono in live Dalle 2 Del pomeriggio E non so La live durerà Dipende un'ora Due Dipende quanto Dipende dagli impegni che ho A volte le faccio anche di mattina Quindi se rimanete aggiornati Vedrete tutto Detto questo Io vi ringrazio di nuovo Da Ikade È tutto Ciao a tutti